Ciao e benvenuto nella comunità Ups Culture. Ti do il benvenuto in quella che tra poco diventerà la tua famiglia. Lascia che mi presenti, chi sono? Sono Oreste Maria Petrillo, coautore insieme a Francesco Schipani del bestseller Amazon The Secret Book of All School Training. Questo è il manuale che ha cambiato il metodo di allenamento di migliaia di pesisti prima di te e che lo stesso può fare per te. Lo trovi in due versioni, la versione Amazon un po' più piccola, la versione Lugo un po' più enciclopedica ma sono entrambi identici in quanto a concetti, capitoli, principi, eccetera. Lascia che ti spieghi che cos'è lo school training e cosa può fare per te. Sei pronto? Iniziamo dalla storia. Che cos'è la old school training e in quanti periodi può essere divisa? Il primo periodo della old school training è quello che va dal 1860 circa sino al 1900 circa. Era il periodo in cui i circhi si esibivano in gare di strome e strome uomo, cioè donne o uomini che sollevavano oggetti straordinariamente pesanti, come ad esempio dei cannoni, dei kettlebell pesantissimi, oppure addirittura delle persone. Era il periodo in cui questi circensi sfidavano chi del pubblico a salire sul parco per ripetere le loro gesta di forza. Il Montepremi era spesso indenato ed era difficile che il campione di turno venisse battuto. Il campione di turno faceva di questo la sua professione e la sua vita, quindi significa che si adenava ogni giorno per ripetere il gesto di gara. Era la multifrequenza, il cardine principale, il principio generale su cui si fondava l'inizio della old school training. In questo periodo vediamo quindi soprattutto prove di forza, di gesta spropositata. Alcune di queste gesta sono ripetute oggi nelle attuali gare di strome. Il secondo periodo invece, che è quello che si affaccia al mondo del sollevamento pesi, come lo intendiamo oggi, quindi un metodo di sollevamento più scientifico, è quello che va dal 1900 fino al 1945-50, epoca in cui inizia una terza fase, la fase decadente del old school training ed inizia la fase, tra virgolette, del libro di Bielin. La seconda fase del old school training è quella che prende la vita con alcuni libri scientifici, alcuni libri sul culturismo. Vengono scritti quindi i primi libri sul culturismo. Eugen Sandro dà una netta separazione da quello che è il mondo della forza a quello che è il mondo del culturismo. Netta separazione però con alcuni principi di base comuni ad entrambi i mondi. Ed è Eugen Sandro che divide quelle che sono le prove di forza dal gesto tecnico di muscolazione. È Eugen Sandro che inventa i primi esercizi di muscolazione, i primi esercizi di posa, che poi vengono ripetuti sui parchi da gare. È sempre lui che crea la prima grande competizione al mondo del culturismo fisico. Ed è lui che inizia a posare per i grandi artisti, i grandi sfruttori, che iniziano a vedere il corpo non più come una mera appendice, una mera massa inerte, ma come una massa bella fatta di muscoli, fatte di muscoli che possono comparsi e isolarsi di sangue. Muscoli che all'occorrenza possono diventare dei capolavori per delle opere d'arte. In questo periodo vengono scritti, ripeto, i primi libri, inizia a venire studiato il culturismo fisico per come è oggi inteso, e vengono lasciati alcuni principi base, che sono quelli cardine del low school training. I principi base quali sono? Innanzitutto che la forza è un principio, una caratteristica fondamentale del sollevamento pesi. A fianco alla forza viene il principio della multifrequenza, così come lo è nel primo periodo, lo è ancora adesso nel secondo periodo. A fianco alla multifrequenza viene il principio dei pesi liberi, pesi liberi intesi come manubri, bilancieri, kettlebell o sollevamento di oggetti strani, come potevano essere a volte incudini o altri oggetti che si ritrovavano. In questo periodo non vi erano le palestre commerciali come ne intendiamo oggi, la maggior parte delle persone si allenavano magari nella loro finile, nella loro stalla, quindi iniziava a sollevare quello che trovava, oggetti strani che trovava. Nasce il principio delle full body perché era difficile che all'epoca si potesse pensare oggi alleno il bicipite, domani alleno il quadicipite, dopo domani alleno il pettorale. Si si allenava con tutti gli esercizi che potessero sviluppare e usare tutti i muscoli del corpo. In questo periodo ancora nasce l'idea del suo raccarico progressivo, cioè l'idea che per sviluppare i muscoli il fisico dovesse essere costantemente visto sotto pressione. Questo non significava però andare a cedimento in ogni serie, di ogni esercizio, di ogni settimana. Ci si allenava nel modo più difficile e duro possibile, senza però raggiungere quel cedimento muscolare, ricercato poi in epoca successiva, con i principi soprattutto dell'alta intensità, vari mezzi, la strugionza, eccetera, che porterà in seguito alla nascita di un altro sistema di allenamento, molto molto distante da questi principi qui, quindi il principio della monofrequenza, il principio del cedimento, il principio di allenare un muscolo ogni 8 giorni per farlo recuperare. In questo secondo periodo non esisteva questa idea che il muscolo dovesse recuperare così tanto per crescere. Quello che era la base di tutto era un'alimentazione molto molto variegata e molto molto vasta. I pesisti dello school training mangiavano tanto, tanto e spesso. Questo è il periodo di altri due grandissimi culturisti che hanno fatto la storia del culturismo fisico mondiale. Steve Reeves e Reg Park, entrambi fautori dei principi dello school training, anche se con ripetizioni leggermente differenti. Steve Reeves con ripetizioni leggermente più alte, Reg Park con il suo famoso 5x5 con ripetizioni leggermente più basse. Reg Park è stato con il quale è ispirato il grande anno di Schwarzenegger. Lo stesso anno di Schwarzenegger si è ispirato ai principi dello school training nei suoi primi anni di carriera, fino a poi a conoscere Weather quando poi ha cambiato completamente il suo modo di allenarsi, ma soprattutto per un fatto di marketing, di pubblicità e quant'altro. Questo lo vediamo nel terzo periodo della low school training. Quindi, in questo periodo vengono codificati i principi basi, quelli carri, quelli più importanti per un atleta natural. Un atleta natural che vuole diventare più grosso e più forte e può riuscirci tranquillamente con questi principi. Ora, passiamo al terzo e ultimo periodo, quello della fase decadente dell'low school training. In questo periodo, intorno al 1950, vediamo la nascita preponderante del doping. Il doping usato come quadruante nell'allenamento fisico, sia per resistere a maratone di esercizi di allenamento, sia per resistere a grosse e grossissime quantità di alimenti ingurgitati, sia per resistere a tanti altri esercizi monoarticolari fatti con le macchine. Iniziano a nascere i primi allenamenti con le macchine, con i cavi, con i cavetti, eccetera. Anche se alcune macchine rudimentali esistevano già prima di questo periodo, però appunto erano più rudimentali e meno efficaci allo scopo. In questo periodo inizia a nascere un allenamento molto più distante dai bilancieri, manubri, kettlebell, esercizi a corpo libero, è molto più vicino ai esercizi con le macchine, esercizi con i cavi, ed esercizi in monofrequenza e inizia a nascere la cosiddetta split routine, cioè gli allenamenti divisi per vari distretti muscolari. È l'epoca weder, è l'epoca in cui ad Arnold vennero affibiate delle etichette non proprio sue, nel senso che viene detto che Arnold si allenava con esercizi monoarticolari, con una serie di ripetizioni di pompaggio e quant'altro. Arnold invece si era allenato per i primissimi anni della sua vita con esercizi di wakelifting e di powerlifting, in maniera di powerlifting venuto in un tempo un po' successivo. Arnold stesso disse che aveva raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi, aveva aggiunto la maggior parte del suo peso corpologo, aveva migliorato in maniera preponderante il suo aspetto fisico, aveva messo la maggior parte dei suoi chili di massa malo-viscolare con esercizi base incardinati sul principio della forza, quindi il famoso 5x5. Che cosa posso fare io? Io posso farti una promessa, una promessa che credo nessun altro può rispettare, è quella che se tu rispetti i principi dell'home school training e li applichi costantemente nei tuoi allenamenti, puoi raggiungere il massimo che la tua genetica ti ha dato nel minore tempo possibile. E questa è una promessa che non so chi altro possa riuscire a farti e a mantenere. In questo breve video non posso ovviamente spiegarti tutta la home school training perché ho scritto un manuale di 500 pagine e sarebbe irriduttivo e offensivo nei tuoi riguardi spiegarlo in pochi minuti. Quello che però posso consigliarti è innanzitutto di iscriverti alla mia newsletter che trovo in questa pagina. Troverai il mio free report, il mio omaggio di benvenuto, dove già ti faccio una panoramica generale delle osculzioni e ti do alcune dritte e alcune schede. Dopo ti consiglio ovviamente di leggere, acquistare, leggere, studiare bene il nostro libro, quello che ormai da tutti è studiato come la Bibbia dell'home school training. Poi ti consiglio di leggere le varie centinaia di articoli che ho scritto nel mio blog e di continuare ad essere aggiornato sull'home school training sia su questo sito, sia sulla pagina Facebook, sia nel nostro gruppo Facebook. Altra cosa è quella di studiare i miei altri corsi che ho scritto, relato insieme ad altri colleghi illustri del settore e di seguirmi in qualche evento da vivo. Ti aggiungerò su questi eventi tramite la newsletter, quindi ti invito a registrarti ora. Quindi, se vuoi che i tuoi allenamenti non siano più gli stessi e che abbiano un'impennata pazzesca in quanto miglioramento, ti invito ad iscriverti oggi stesso alla mia newsletter e a leggere i miei testi. Ciao e buon allenamento! E mi raccomando, fai del tuo corpo la meravigliosa opera d'arte della tua vita. Ciao da lo resta! Ciao!